Il cinema di Venezia Il cinema di Venezia Apre la mattinata Emma Dante con Via Castellana Bandiera Una faida tra due donne di carattere molto forte Che non vogliono cedersi il passo in uno stretto vicolo del centro di Palermo Seconda proiezione della giornata Trex di John Curran Protagonista la straordinaria Mia Vasi Koska Ispirato al romanzo autobiografico della Davidson Che attraversò il deserto australiano Accompagnata da quattro cammelli e dal suo cane Solo per raggiungere l'oceano pacifico And so I'm writing to you in the hope that your magazine will sponsor my trip I believe National Geographic to be of the highest international repute The trip will take me through some of the most beautiful and barren country the desert can show I'm enclosing a map of my proposed route From Alice Springs to Ayers Rock Then on through the western desert to the Indian Ocean I have three camels and one small calf Trained and ready to go They are perfectly reliable beasts Their names are Dookie Bob Sally And baby Goliath I am well aware of the hardship I will be facing And the first to admit I am remarkably unqualified for such a hazardous undertaking Conclude infine la giornata il film molto intenso e anche molto lungo Suddiviso in ben 60 sottocapitoli del tedesco Philipp Grunning Sul degenerarsi in pura violenza di un rapporto di una giovane coppia Dicêtre la consta quelle chive PMA Dicêtre la consta Durante la consta E' M Chicho Chicho Chicho